Com'è questo meeting? È molto molto interessante, è molto diverso da quello dell'anno scorso. Si vede che si è lavorato tantissimo, si è interiorizzato così tanto il tema. Poi noi siamo così contenti di fare una Expo di nuovo in Europa, di non avere il bisogno di spiegare chi siamo, come Spagna, di avere un tema che è così amplo, che permette fare un po' di tutto. E si vede che c'è un cambio di modello che era molto necessario e molto interessante per noi. La Spagna, che ha qualche problema economico, come parteciperà all'esposizione? Sono sicura che la Spagna parteciperà, noi abbiamo detto che lo faremo, stiamo lavorando in questo, la situazione economica è molto difficile anche per noi, però stiamo lavorando e penso che sicuro ci saremo, perché Spagna ha avuto un ruolo importantissimo nel mondo dell'Expo e più in quello del cibo. Puoi immaginare l'alta gastronomia, possiamo dire che anche con gli italiani siamo leaderi nell'alta gastronomia, anche in prodotti, denominazioni di origine, tante cose, sono sicura che ci saremo qua. Grazie.